Si avvicina il giro di Boa nei campionati dilettantistici, ma a tanere banco in questo periodo sono le crisi societarie. Senza stipendi, definiti impropriamente rimborsi e spese, i giocatori si guardano attorno. Più che imprese sportive e obiettivi di classifica, si va alla ricerca di piazze solide dal punto di vista economico. Chi ha visto svanire gli obiettivi d'inizio campionato ridimensiona, lasciando sul mercato anche giocatori di grido. Da Gioia a Tauro, dove domenica va in scena del derby contro la Palmese, Balsamo potrebbe finire al Castro Villari, che domenica sfida il Rende. Entrambe le formazioni cosentine sono sulle tracce di Gennaro Scafaro, già accostato alla Paolana. Il capitano dello Scalea per ora non si muove, anzi la società biancostellata ha ufficializzato gli arrivi di Leone e degli under di Rosa e Migliore, tutti provenienti dalla squadra siciliana del Vittoria, che dovrebbero debuttare domenica ad Isola Caporizzuto. Il soverato dopo l'esonero di Salerno, nonostante il traguardo della finale di Coppa Italia, sfida domenica il San Marco ed è pronto a riabbracciare gli ex Coluccio e Minici, che avevano iniziato la stagione a Guardavalle. I normanni, invece, sono sulle tracce di due ex San Lucido, Ciccio Cairo e Fabio Longo, contattato anche dallo Scalea. Apparentemente poco attive sul mercato bovalinese e Siderno, che si affrontano domenica per acciuffare punti salvezza. La capolista Montalto va a Branca Leone, mentre oltre all'anticipo sersale Guardavalle, domenica si gioca Roccella Rossanese. Meno strombazzato il mercato in promozione, dove nella quattordicesima giornata spiccano, inoltre al derby di sabato tra Praia e Cat Tortora, Paolana Fuscaldo e Rogiano Amantea. I blu cerchiati non possono perdere ancora dopo quattro sconfitte consecutive e la Paolana potrebbe effettuare il sorpasso ai danni dei gialloverti del Barone Curcio. Con i dubbi del momento, il San Lucido ospita il Cetraro, mentre per la zona bassa la Promosport cerca punti a Corigliano. Cremissa Luzzese promette spettacolo, Rocca Torretta e Cutro Presila sono partite da tripla in schedina. Cremissa Luzzese promette spettacolo, Rocca Torretta e Cutro Presila sono partite del Barone Curcio.